Non abbiamo posto veti nei confronti di persone, di simboli, anzi ci spiace che qualcuno a sinistra dica con la Lega no, con Salvini no, è un momento in cui per noi l'Italia viene prima di tutto, viene prima dell'interesse di partito, dell'interesse personale, non abbiamo parlato né parleremo di poltrone, di ministeri, questo esercizio lo lasciamo ad altri, ci rivediamo in settimana, diciamo che ci sono diverse sintonie. Abbiamo parlato ad esempio di sostegno al turismo, all'agricoltura, abbiamo parlato di un'Europa che per noi deve mettere al centro anche la difesa dell'interesse nazionale, europeismo non significa svendere le nostre spiagge, le nostre aziende agricole, i nostri alberghi, quindi si può e si deve stare in Europa difendendo l'interesse nazionale, ci sono buone sensazioni.